Ce l'abbiamo fatta, sono due giorni che ormai siamo attivi e abbiamo iniziato le somministrazioni. Dopo alcune difficoltà legate alla disponibilità dei codici di accesso alla piattaforma, prendono finalmente ritmo le vaccinazioni in farmacia a Napoli e in provincia. Qui siamo alla farmacia del corso Sita in Via Roma a Farta Maggiore, che ha allestito, per garantire il servizio ai propri utenti, un apposito box con distinte aree di accettazione, somministrazione e monitoraggio. La procedura per avere accesso al vaccino è semplice. Bisogna essere registrati su piattaforma e venire poi in farmacia ed effettuare la registrazione anche qui e verranno poi convocati. Le somministrazioni sono attive da lunedì al sabato. Il tempo di attesa dopo la prenotazione è mediamente di uno o due giorni e non esistono file. Speriamo di raggiungere almeno ogni giorno una quarantina di somministrazioni. I vaccini in farmacia daranno sicuramente un grosso contributo in questa fase di accelerazione della campagna vaccinale. C'è un ambiente accogliente, ci sono dottori a servizio appunto dei nostri clienti e c'è la comodità di raggiungerlo facilmente perché può essere la farmacia sotto casa. Il vaccino somministrato è quello della Johnson & Johnson, denominato Janssen. Anche qui c'è un'ulteriore comodità, diciamo così, in quanto prevede un'unica somministrazione. A usufruire del servizio tanti stranieri che hanno difficoltà con la lingua ma sono in possesso di testa sanitaria, persone anziane ma anche giovanissimi. Il vaccino dovrebbe essere una cosa che dovrebbero fare tutti. Poi c'è il fatto che sia una dose e il resto mi ha spinto ancora di più a farlo.